Risale a qualche ora fa la notizia che Classroom sia diventato disponibile per tutti gli account Google e non solo quelli già accreditati per la G Suite for Education. È una novità importante perché permetterà a tanti docenti che non appartengono a scuole accreditate di verificare le funzionalità del servizio di Google. Per attivare il servizio sarà necessario accedere al proprio account Google e poi collegarsi al sito di Classroom. In seguito bisognerà premere il tasto più e selezionare dal menu a tendina l'opzione Crea Corso. Nella finestra seguente sarà necessario dichiarare di accettare i termini del servizio e poi premere il tasto Continua. Dovremo poi inserire i dati del corso e infine selezionare la scritta Crea. Ci troveremo a questo punto nella home page del nostro corso e compariranno i primi suggerimenti di Google. Per poter invitare gli studenti dovremo selezionare dal menu in alto Studenti. Nel menu seguente potremo selezionare l'opzione Invita studenti. Comparirà una finestra che ci consentirà di selezionare tra i nostri indirizzi in rubrica quello dello studente che desideriamo invitare. Potremo anche inserire un nuovo indirizzo. Premeremo infine il tasto Invita. In questo modo gli studenti riceveranno direttamente nella casella della posta elettronica un invito per accedere al nostro corso.